Un bel ritrovato e un aggiornamento con la tendenza a media e lunga scadenza. Dopo una settimana prossima molto instabile sulla nostra penisola, soprattutto centro-nord, con clima anche piuttosto fresco per l'arrivo di correnti settentrionali, durante il weekend del 23 e 25 settembre l'alta pressione interesserà maggiormente Spagna, Francia, così come gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, favorendo quindi maggiore stabilità anche sulle nostre regioni, da segnalare sempre delle perturbazioni a carattere freddo che interesseranno i Balcani e l'Europa orientale, con qualche riflesso solamente sulle Adriatiche e l'estremo sud Italia, quindi ancora qualche resido piovasco, temperature che piano piano ritorneranno su valori tipici del periodo. Con questo per il meteo è tutto, ma aggiornamenti come sempre scaricando l'app di trebimeteo.com.